Questo prototipo è stato sviluppato all'interno del progetto Macarena che ha come obiettivo l'utilizzo della canapa come cultura trappola per la piralide sia su mais che su peperone. Il progetto aveva diverse azioni, fra cui anche quella di sviluppare un prototipo per facilitare le operazioni di taglio, essicazione e raccolta delle piante di canapa. Nello specifico, questo è il prototipo che è stato sviluppato, nato all'interno del progetto interregionale Nuove Filiere, coordinato dalla regione Friuli-Venezia-Giulia nel 2006, ha avuto diversi step di evoluzione fino ad arrivare a quello finale, dove è stato costruito questo telaio frontale da due barre falcianti che si possono posizionare a diverse altezze, da un impianto idraulico alimentato da una pompa azionata dalla presa di forza anteriore e il taglio si completa con la barra falciante posteriore, classica da Fianagione.